Trasporto di malati senza autorizzazione. I carabinieri della stazione di Caltagirone hanno denunciato un 47enne del posto per aver trasportato persone inferme senza possedere l'autorizzazione sanitaria prevista per i mezzi di soccorso. I militari hanno svolto un servizio di controllo anche nel presidio ospedaliero Gravina e Santo Pietro di Caltagirone. Le autorità hanno verificato la regolarità dei mezzi di soccorso usati all'interno della struttura. Monitorata anche un'autoambulanza modello Fiat Ducato notata transitare nel plesso Clementi in direzione dell'uscita del nosocomio. A bordo due occupanti che si sono qualificati quale autista e passeggero. La vettura recava le scritte ambulanza e assistenza sanitaria e onlus. Entrambi indossavano indumenti utilizzati dagli operatori sanitari, soccorritori. Ambe due hanno riferito di essere in procinto di trasportare una paziente dall'ospedale al domicilio. Qualche minuto più tardi è arrivato il 47enne legale rappresentante dell'associazione abbigliato con una t-shirt con le scritte autista soccorritore e associazione volontariato Croce Caltagirone. I militari hanno chiesto la documentazione autorizzativa, l'uomo ha sostenuto di non averla da esibire e di essere in regola poiché secondo lui non vi era alcuna autorizzazione da chiedere all'Asp. Sono così emerse diverse irregolarità riferibili al mezzo che nonostante fosse in regola con i documenti di circolazione e risultato privo di autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente per il trasporto di soccorso infermi con un chilometraggio superiore a quello massimo consentito oltre il quale il veicolo deve essere sostituito e non destinato al soccorso o trasporto degli ammalati con il superamento nei sette anni di vita massimi dalla prima immatricolazione previsti per queste vetture. L'ambulanza è stata sequestrata, atto successivamente convalidato dal GIP del Tribunale Calatino. Controllata pure la strumentazione medica a bordo del mezzo, constatata l'assenza degli estintori che avrebbero dovuto essere collocati all'interno dell'abitacolo, il 47enne è stato già deferito nel mese di marzo dall'arma di Caltagirone per aver commesso analoghi reati. Una vicenda questa che ricorda a quelle che anni fa si verificarono a Paternò e con ulteriori elementi che fecero scattare l'operazione ambulanza della morte a Biancavilla.